ben trovati nell'angolo dello sport 2 a 0 per il chievo contro il pescara subito la reazione di alcuni tifosi, è finita già la magia di Zeman e poi c'è quello scontro, quelle scintille tra Giannascoli e Sebastiani. Allora cerchiamo di capire un po' le situazioni, io mi rendo perfettamente conto che i tifosi debbano e possano reagire in maniera differente a seconda della propria cultura, a seconda della propria esperienza, a seconda della propria conoscenza e competenza delle cose di cui parla. Detto questo allora, mentre posso capire che il tifoso possa essere o di parte zemaniana o non zemaniana e fare determinati commenti, però alla persona da bene che segue il calcio come espressione di vita, come espressione sportiva, come espressione ludica, dico ma è possibile che Zeman in tre giorni possa risolvere quelli che sono gli errori macroscopici di mercato fatti ad agosto scorso e poi a gennaio da parte del signor Sebastiani? È possibile quindi che in poche giornate si possano colmare questi erroracci fatti da Sebastiani? No. È possibile invece che Zeman faccia un tipo di lavoro che faccia crescere la squadra, questa squadra che è stata costruita male, in modo da poter vedere quali elementi poter confermare per il prossimo anno per il campionato di Serie Dio. Detto questo, passiamo agli annascoli e a Sebastiani. Gli annascoli con il suo ufficio legale fa arrivare negli uffici e dell'avvocato di Sebastiani e della Interleasing un PEC, che significa un'email che è come una raccomandata con ricevuta di ritorno, è ufficiale. Sebastiani dice non ho ricevuto nulla, ribadisce gli annascoli menti sapendo di mentire. Allora, senza voler essere di parte perché personalmente non me ne frega niente, io sono un giornalista che cerchio di raccontare i fatti. Se il fatto è che Danilo Iannascoli con il suo ufficio ha mandato una PEC, non può a questo punto Sebastiani dire non ho ricevuto nulla, a meno che non abbia tenuto il computer chiuso, non ha aperto la corrispondenza e non l'ha letta. Detto questo però, c'è da dire che quando c'è un'operazione del genere ci vuole uno che abbia la volontà di comprare e un altro che abbia la volontà di vendere. Orbene, Sebastiani in più di un'occasione ha detto pubblicamente che avrebbe voluto vendere e che avrebbe venduto di fronte ad un'offerta concreta. Danilo Iannascoli a questo punto fa capire che ha fatto un'offerta concreta che o perlomeno ha espresso la volontà concreta di comprare. Però chi compra non è che va lì, mette i soldi sul tavolo e poi dice fammi vedere quello che ho comprato. No, c'è questo due diligence che significa io voglio comprare, fammi vedere le carte. Allora qualche tifoso dice, ma come? Iannascoli non è socio della Pescara Calcio, quindi ha bisogno delle carte. E sì, perché se Danilo Iannascoli a suo tempo si è dimesso da amministratore delegato è perché c'erano delle operazioni borderline che non voleva e non poteva accettare e dalla sua uscita da amministratore delegato di tante operazioni ancora si può parlare e si deve parlare ed è giusto che si controllino perché il nostro amico ragioniere Sebastiani ha un solo piccolo difetto che opera in combutta con alcune realtà del calcio nazionale tipo la Gea che non danno garanzie di sorta o perlomeno non danno garanzie di credibilità. Quindi, al di là di tutte le chiacere, da cronista, senza parteggiare per l'uno o per l'altro, perché ribadisco non me ne frega niente, aspetto che i fatti si evolvano per parlarvene. È tutto per questa edizione. Un affettuoso abbraccio come sempre da Gianni Lussoso e un grazie particolare al regista Leo Di Blasio che mi ha regalato questa foto in sottofondo che era firmata da mio figlio Marco Maria Lussoso. Ciao a tutti.